benvenuti sopravvissuti e sopravvissute di qui di nuovo su ghost of tushima proseguiamo con l'ultima missione del racconto di noreo cosa volevo dirvi prima di andarvene da questo video vi chiedo sempre di lasciare un like e iscrivervi al canale vi ricordo che su twitch siamo official ishiv comunque è tutto un link nel bio quindi potete trovarci proseguiamo questo triplice mondo vabbè niente mappi no veda qua no non si può cavallo vieni qua cavallo inutile ok eccoci qua ciao norio l'aria aperta gli piaceva più della pagoda al tempio del cedro il mongolo che stai cercando carcio l'hai trovato non è lontano da qui norio al tempio del cedro serve una guida questo viene prima la vendetta non è il primo dovere di un monaco prima di essere monaco ero un fratello non andare da solo voglio aiutarti come volete va bene norio verrò con te vendetta a parte invertite credo che rinuncerebbe alla vendetta se così fosse io sarei buono il guardiano sarebbe vivo su scipa sarebbe un posto migliore torna al tempio del cedro me ne occuperò io non riuscirete a farmi desistere non voglio che tu diventi come voi come le persone che questa guerra ha ormai cambiato qua giù c'è un punto da dove si vede il forte è troppo tardi per quello mio signore ho messo a frutto i vostri insegnamenti per trovare carcio ti aspetto lo stesso di ogni barbaro cane mongolo senza ultime avrai soltanto un tentativo anche il quale forte quando l'avrai sottotiro colpisci senza indugio cani andatevene via norio vi prego siamo pomati pietà ce ne andiamo ma norio non erano un pericolo forse adesso sicuramente no dovevano pensarci avanza e trova il nirvana arretra e trova l'inferno dove l'hai letta e ha una prega incisata Angel su questo naginata dopo che salvò il tempio di Cushida i briganti e divenne il guardiano soffri più di quanto immaginiamo ma tenne duro per vederti volete sapere le ultime parole che mi disse? mi sbagliamo su cosa? non lo saprò mai l'ultima parola di Carciu sarà solo un grido di dolore dovremmo riposarci per domani avete ragione signore risparmierò le forze per Carciu finalmente una grande battaglia mu uh 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 è andato da solo col pirna ma figaro no aspetta aspetta e invece ma guardate guardate è pirla inizialmente credevo fosse la risposta alle mie preghiere ma poi torna al tempio del Cedro me ne occuperò io adesso dovrò andare con Norio affrontare Norio bla bla mica tutti l'ha ammazzati minchia Norio che bestia sei si se magari non camminassi hai il coraggio di farla brucia brucia per i tuoi crimini beh che sta succedendo mi avevi detto che non avresti mai usato innavinata con odio ho agito come avrebbe fatto lo spettro e adesso Carciu è morto non tornerò al tempio del cielo non dopo oggi dove andrà non mi importa era ancora vivo quando ho acceso la legna sentirlo urlare mi ha riempito di gioia mi ha riempito di gioia lo rifarei con piacere non sono più un monaco non ci devi rinunciare tutti hanno riempito e promesse non mantenute ma l'isola ha bisogno di te dell'ultimo guerriero del tempio del cielo non posso tornare a quello che ero prima di oggi non ti chiedo di tornare a te ti chiedo di non perdere la fede e di andare avanti grazie Jay ci vediamo al tempio del cielo quindi c'è una decima amuleto difensivo fascia del caos 2 di seta all'oro non me lo dà nessuno giustamente no ok niente allora vediamo se c'ho resistenza c'è il 3 buono del benessere c'ho sempre il 2 basta ok concludiamo qua l'episodio allora e il prossimo prossimo episodio episodio speciale niente vi chiedo sempre di lasciare un like e iscrivervi al canale se non lo siete già alla prossima ragazzi a Grazie a tutti.